Ciao! Questa zona ti sembrerà molto pulita e abbastanza ordinata, ma non è così. Sapete che ho rifatto l'ufficio da poco, il video vi è piaciuto, ho guardato i tecnici che lavoravano e ho deciso di replicare e voglio sistemare questa parte del salone. Una cosa che voi non sapete è la seguente. Quindi in questo momento io dovrò togliere tutta questa roba da qui dentro e rifare il cable management. Raga comunque è una roba veramente spaventosa, io ve lo dico, abbiate pazienza, ma c'è 280.000 pad qui dentro. Che poi non vi credete più che altro è un regalo a Veronica perché glielavo penso che lo facevo oggi che mi sento un vena, lo faccio, ma avendo l'esperienza del mio ufficio. Calcolate che io penso che qua dentro, se poco a poco c'era un fulmine, se un pavo io e pure i vicini. Allora diciamo che le cose non essenziali le ho tolte, adesso dovrei staccare mano a mano queste cose per poi ricollegarle in maniera decente. Questo cavo non ci serve, questo alimentatore non ci serve, questo cavo pure che va al router se ne va, era quello di Sky che tra l'altro ho tolto, HDMI che va tolto dal subwoofer, cioè dall'impianto dorsi. Ok, non so se mi vedete, non lo so. Qui diventa più complicato perché abbiamo questa che secondo me è un caricatore morto, lo togliamo. Abbiamo questo cavo gigantropico, questo cavo gigante che probabilmente va dal televisore, questo cavo qua. Poi 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 poi, questo sicuramente è un cavo che va via. Nell'eventualità di fare questo lavoro ho comprato un po' di cavi Ethernet di diverse misure, quindi vi porto un po' più vicino e andiamo a vedere che riusciamo a fare. Allora, praticamente noi con questi cavi dobbiamo sostituire per l'appunto i cavi vecchi. Ad esempio, questo cavo giallo, che tra l'altro ci sta male, mi va a sostituire questo cavo qua, che con una serie di giri incredibili era questo sotto. Raga, veramente è una roba indecolosa. Dovrebbe essere giusta la dimensione, anche se lo facciamo più tardi, perché questo qua io lo proprio cambio a posto. E direi via anche il router, perché ho timore che il router mi dia problemi di interferenze. L'Xbox è questa, è inutile che la tengo qua, anche perché è finta, non è attaccato niente. La PlayStation la sposterei a destra e il boss a sinistra a sto punto, così evito tutti sti cavi incredibili. Il problema è che ho dei cavi lunghissimi e non gli posso fare niente a questi cavi qua, regà. Non gli posso fare niente. In questo momento io con una fascetta ho messo questi fili attaccati al tv dietro. Ora, con questa canalina, io la vorrei mettere tipo qui, che se ne va sopra e me ne va qua. Questa è l'idea. Devo prendere le misure, la devo incollare al muro e devo vedere. Quindi questo è il prossimo passo. Lì ho il seghetto, ho le mie pinze, ho tutto quanto. È mezzogiorno e 25, ero partito alle 10 e mezza. Il risultato è che sono abbastanza contento, potrebbe andare meglio. Adesso provo a fare il cable management qua sotto e vediamo. Ragazzi, ragazze, disiamo, non ce la faccio più. La videocamera è anche storta. È l'1.10, ne la faccio più. Devo sistemarsi a me, ma quello lo faccio più tardi. Ve faccio vedere quello che ho combinato. Ho calcolato che il mi piace, lo lascerei solo per l'impegno. Qui ho fatto un po' di cable management, ma niente di che ragazzi. E qui i cavi sono tantissimi, però, vedete, è molto più sistemato di prima. Ovviamente, rega, non dico che è fatto da Dio. La parte che mi piace di più è questa qui. Ho messo la canalina, quei cavi che vanno dietro. Questa Nintendo, la Playstation, il Bose. Qui un'altra canalina e il router. Vi dico la verità, mi sei staccato un pezzetto del tonico. I mortacci mia. Dietro, televisori, fatto una roba del genere. Vedi? Va dietro, mi è venuto proprio pulito, clean, clean, clean. Io vedo di la verità, non so se questo video lo vedrete mai. Com'è venuto, come non è venuto. E chi lo sa? La vera domanda è sempre una. Ma chi me l'ha fatto, va! Signori, se il video vi è piaciuto, pollicelo in su, commentate, condividete se non siete iscritti. Iscrivetevi al prossimo appuntamento, a vostro 1589. Pensate, magari sto abbassato, ma nel caso se sto così mi se vede. Però non lo posso sapere, quindi nel dubbio guardate gli altri due video. Ciao, rega, non so che video... Eh, guarda, non so. Ciao, ciao.